È stato presentato nel piazzale antistante la sede dell'azienda per la mobilità aquilana Lama in via Campodipile il primo autobus completamente elettrico della città, acquistato dal comune dell'Aquila grazie a fondi regionali e dato, incomodato d'uso gratuito, a Lama appunto. Si tratta di un autobus innovativo, per ora ce n'è uno, ma verrà portato a quota 10 il parco macchine come assicura l'assessore Mannetti e soprattutto quando il centro tornerà ad essere completamente fruibile in alcune zone si potrà viaggiare soltanto in bus elettrico. Come tutte le città europee e moderne aspirano al miglioramento dell'ambiente, quindi questa giornata di oggi è molto importante perché ne seguiranno delle altre, perché nel 2019 ci saranno ulteriori autobus elettrici che entreranno a far parte del patrimonio della società. Ecco, la gente prende ancora poco l'autobus, può essere questo un modo per incentivare anche l'utilizzo dei mezzi pubblici? Assolutamente sì, insieme a una campagna più incisiva per l'utilizzo dei mezzi pubblici, insomma, abbiamo pensato con l'amministratore che a breve partirà anche delle scuole. Grazie. Grazie.